Muzio Consiglio, perché Salvini può cambiare la Liga Nord? Io credo che più che cambiarla può essere un ottimo interprete di quello che è stato un solco tracciato 25 anni fa e può essere un ottimo interprete perché ha la gioventù dalla sua parte, l'orgoglio di essere un leghista dalla prima ora un ragazzo molto intelligente, che ha un'esperienza anche europea, che ha esperienza di segreteria e che ha soprattutto la voglia di mettersi in gioco come poche persone e questo può essere l'elemento che può scatenare anche un po' così la simpatia di chi ha votato Lega per qualche volta che poi non l'ha più votato o addirittura di chi non l'ha mai votata perché siamo un movimento comunque che ha un ottimo prodotto da mettere sul banco in vendita e quindi ci vuole un buon venditore. Il Nord in questo momento sta soffrendo una politica che non piace, ovvero quella del governo Letta Ma sai, noi ci siamo trovati dopo le dimissioni di Berlusconi con due governi, quello Monti e quello Letta che sono praticamente la conseguenza logica di un sistema statalista e centralista romano Anche Letta, con tutto il rispetto che posso avere come persona, come politico, forse un po' meno perché sta malinterpretando quelle che sono le esigenze del paese e sta malinterpretando, addirittura è cieco sulle esigenze che ha il Nord e se ci fermiamo noi, se si ferma la macchina del Veneto, Piemonte e Lombardia credo che questo paese abbia poche possibilità di salvarsi. Grazie. Grazie